siamo qui all'aico di burgas alla molle ci vogliamo comprare un divano se ci piace se ci piace dobbiamo scegliere sono laterali sa che abbiamo trovato il divano giusto comodissimo meraviglioso come si chiama? vedi l'etichetto? si chiama Milano è fatto in Italia facciamoci un regalo andiamoci a fare questo contratto ma hai visto il prezzo? e va bene non importa ci facciamo un regalo anticipiamo il Natale comunque con due meccanismi questo qui e tre posti bene quello che ci serve a noi molto bello ma il colore lo vuoi? adesso lo scegliamo lo facciamo beige dai che ci sta bene a casa vostra ok ciao a tutti ciao a tutti Grazie.